Buona serata gentili telespettatori di Teleantenna, edizione di Trieste e Gorizia del telegiornale che avremo con la cronaca, è stato infatti scoperto e trovato il rapinatore della farmacia Altura che proprio la vigilia di Ferragosto aveva colpito. Sentiamo come sono arrivati a scoprirlo le forze dell'ordine tra la Polizia di Stato e gli agenti della Polizia Locale. La Polizia di Stato e la Polizia Locale ha identificato l'autore della rapina avvenuta nel pomeriggio dello scorso 14 agosto alla farmacia Altura di Via Alpi Giulie. Alle 18.30 di venerdì scorso uno sconosciuto coperto da passamontagna e armato di coltello si era introdotto nella farmacia di Via Alpi Giulie e sotto la minaccia dell'arma si era impossessato dell'incasso ammontante a circa 700 euro, dileguandosi a piedi nell'area boschiva circostante. La dinamica della fuga e l'inflessione dialettale locale avevano fatto immediatamente ritenere che il rapinatore dovesse risiedere nella zona e travisatosi per non essere riconosciuto. L'attività di indagine avviata dalla squadra mobile unitamente alla personale del nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale, che poco prima della rapina aveva notato un ragazzo corrispondente al rapinatore non lontano dalla farmacia, consentiva di individuare ieri il 21enne BF abitante nel quartiere privo di precedenti penali ma gravitante nell'ambiente della tossicodipendenza. Il giovane, che al momento del rintraccio palesava una tensione e un nervosismo ingiustificati veniva sottoposto ad un controllo personale che consentiva di rinvenire della sostanza stupefacente occultata. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti elementi che lo collegavano alla rapina i capi di vestiario, il coltello da cucina e soprattutto il passamontagna. Il giovane, ormai con le spalle al muro, confermava di essere l'autore del colpo alla farmacia commesso a suo dire per saldare un addebito di droga. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato quasi 100.000 luci natalizie in Porto Nuovo a Trieste individuate all'interno di due container sbarcati dalla Cina. Le Fiamme Gialle e l'Agenzia delle Dogane si erano insospettiti dalla scarsa qualità della merce e hanno contattato l'Istituto Italiano di Marchio di Qualità. Dagli accertamenti è emerso che sugli articoli era stato indebitamente apposto il marchio IMQ, quello dell'Istituto stesso. La merce è stata quindi sequestrata e proprio in questo periodo dell'anno tra l'altro che proprio i grossisti si riforniscono degli addobbi e delle luci. Nel 2015 le Fiamme Gialle hanno già sequestrato oltre 180.000 oggetti che vanno dalla contraffazione al Made in Italy, alla violazione del codice del consumo. E torniamo a parlare di cronaca, in questo caso dell'Ausonia Jump che era stato chiuso per volontà appunto del questore. Bene, sono state affisse delle telecamere antirissa insomma che permetteranno di vedere se non altro e registrare quanto accade e quindi il locale torna ad aprire. Ripartono le serrate all'Ausonia Jump. Si riprenderà a balare oggi dalle 23.30 fino alle 4 del mattino con una notte di musica commerciale pop organizzata dalla Anubi SRL. E la vigilenza all'interno del locale sarà massima, assicura il consorzio che gestisce lo storico stabilimento balneare triestino, annunciando che a partire dalle prossime settimane l'ingresso sarà controllato da alcune telecamere. Altre misure per l'area esterna, al momento ancora da definire con esattezza, saranno presto stabilite in accordo con le forze dell'ordine. Un ritorno comunque alla normalità quello di stasera dopo lo stop deciso dalla polizia per effetto delle risse avvenute all'esterno del locale nel corso di quest'estate. La più grave ed eclatante, quella della notte dell'11 luglio, con il pestaggio del 35enne triestino Raul Juresevich preso a pugni e calci nel parcheggio di fronte da un gruppo di 4 giovani kosovari e rumeni. Raul ha rischiato danni permanenti alla vista. La brutale aggressione ha innescato un'indagine a tappeto della polizia che nel giro di qualche giorno è riuscita ad identificare i quattro presunti responsabili grazie anche all'aiuto di numerose testimonianze ed alcune fotografie della serata di musica pubblicate sui social net. Alcuni giorni dopo, le forze dell'ordine hanno registrato un'altra zuffa che stavolta aveva coinvolto giovani di origine bulgara. Tutti episodi che insieme ad un altro pestaggio avvenuto alcune settimane prima, ma mai concretamente denunciato per paura di ritorsioni, hanno spinto le forze dell'ordine ad emanare un provimento drastico, la chiusura temporanea di due settimane per otto giornate complessive. Ragioni di ordine pubblico, secondo la Questura, che non ha fatto altro che applicare l'articolo 100 del testo unico delle leggi in materia di sicurezza, una misura che Dario Parisini, il presidente del consorzio Ausonia, la realtà che raggruppa le varie cooperative sociali presenti nella struttura, ha giudicato eccessiva e spropositata fin dall'inizio. Il presidente, che nei giorni successivi ha anche organizzato una conferenza stampa per precisare le proprie ragioni, ha stimato un danno economico che si aggira intorno ai 50.000 euro. Adesso, il consorzio, proprio per garantire una maggiore vigilanza e per arginare il rischio di eventuali disordini e violenze, sta preparando alcune iniziative, interventi che non riguarderanno la parte interna, bensì l'esterno del locale. Dentro siamo già a posto. Le misure prese sono massime, considerato il numero di addetti coinvolti, spiega Parisini. Ora ci concentreremo invece sulla piazzale antistante, anche se l'area in realtà non sarebbe di nostra competenza. Proposte che saranno intraprese di concerto con le forze dell'ordine e che prevedono appunto l'installazione di alcune telecamere all'ingresso del locale. Domanderemo un incontro con i funzionari della questura, sottolineo ancora il gestore, proprio per decidere assieme come migliorare la sicurezza dell'intera zona. Anche se, vale la pena ripeterlo, la parte fuori non sarebbe di nostra pertinenza. Cambiamo decisamente pagina, parliamo invece del piano regolatore del porto di Trieste. C'è il via libera da parte del Ministero. Dopo il parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale via, è stato notificato all'autorità portuale di Trieste il decreto con cui il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali hanno espresso parere positivo sul piano regolatore portuale di Trieste, proposto dall'API decretando la compatibilità ambientale delle opere previste dal piano. Lo ha reso noto un comunicato della stessa API, dove si verifica che così l'iter ministeriale di approvazione del piano regolatore del porto di Trieste riapproda alla fase finale. Il PRP ricorda la stessa autorità portuale, è lo strumento principale della pianificazione di uno scalo e ne delinea le scelte strategiche di sviluppo. Questo nuovo piano regolatore del porto di Trieste, che l'ultimo risale addirittura al 1957, si propone di promuoverne l'espansione attraverso una nuova configurazione dell'infrastruttura e un nuovo assetto spaziale e funzionale, rendendo il porto anello di un sistema logistico più ampio. Trieste è stata la prima authority in Italia ad attivare con successo la procedura di valutazione ambientale strategica integrata alla valutazione di impatto ambientale prevista per i piani regolatori portuali. E' una vittoria di tutta la città di Trieste e della regione. Finalmente si conclude un iter iniziato nel 2009 e poi interrotto. E' il primo commento del commissario dell'autorità portuale, Zeno D'Agostino.